Aggiornamenti dalla redazione di Flores Multimedia, bentrovati da Mauro Ciutini. Una perdita di carico sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra il centro intermodale ovest e quello est, la direzione è quella per Firenze. Traffico è intenso sulla 1, tra Firenze-Sud e Incisa-Reggello, la direzione è quella per Roma. Traffico rallentato anche in A11, siamo tra la barriera di Firenze-Ovest e Prato-Est, la direzione è quella per Pisa. A causa di un autobus in avaria alla galleria Buttoli, ci sono ancora rallentamenti in A1, variante di Valico, tra l'allacciamento A1, variante di Valico Nord e l'allacciamento A1 in direzione Sud. Veniamo a lavori per la tranvia Firenze, stasera nessuna chiusura, come era stato invece annunciato per la rotatoria di via Forlanini. È tutto, muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. A dopo. Grazie. Grazie.